ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi andremo a creare insieme una carta pop up come vedete questa nell'esempio è quella che utilizzo di solito per metterla nelle strutture dell'album però per creare comunque un biglietto d'auguri non mi piaceva la trovavo troppo piccola quindi approfittando del fatto che con le mie amiche ci siamo ritrovate per fare un nuovo album con una nuova tipologia di struttura mi sono fatta aiutare da Elena per crearne una un attimino più grande che fosse più adatta a quelle che erano le mie idee quindi per fare questo progetto ci servono tre strisce di carte io le ho già tagliate perché comunque ero partita da un pannello di carta da un metro per 70 quindi me l'ho già preparata tutto tagliato perché sennò il video durava delle ore la prima è la carta quella che diventerà poi il vero e proprio biglietto ed è una striscia di carta che è lunga 42 per 12 centimetri alla quale andremo a fare esattamente a metà una piegatura possiamo utilizzare una scoreboard che è questo attrezzo che vedete nel video questa per l'esattezza della we're a memory keeper che con una pieghetta questa non è la sua la sua è verde ma fa una pieghetta un attimino troppo grande per i miei gusti ci aiuta comunque andare a creare le piegature per fare delle buste anche spessorate per fare delle scatoline eccetera la seconda striscia che ci serve è una striscia che misura 28 centimetri per 11,8 ed è quello che poi andrà a creare l'ingranaggio di apertura del pop up in questo caso si andranno a fare tre piegature si piegherà prima di tutto il nostro foglio a metà per la lunghezza quindi a 59 per 59 dopo di cresci cresci andranno a creare queste due diagonali prendendo le misure da una un pezzo da 8 12 e di nuovo 8 centimetri e tiriamo le a diagonali e si ottiene questo tipo di ingranaggio o meccanismo chiamiamolo un po' come vogliamo che è quello appunto che permette di far funzionare il pop up il terzo foglio ed è quello dove noi andremo a fare poi le decorazioni è un foglio di 12 centimetri per 40 quindi ogni rettangolo misura 10 centimetri per 12 preparato queste tre parti che sono quelle che compongono il nostro pop up noi possiamo comunque iniziare il nostro lavoro questo si può fare le varie pieghette con i bulini anche con la pieghetta solo e il righello anche col dorso delle forbici se uno un attimino bravo avete tagliato alla perfezione anche piegando proprio manualmente dopo accentuando la pieghetta perché è molto importante con anche con una forbice se riesce io mi ero già preparata tagliate le carte come vedete io ho sfondato gli angoli perché la trovavo più carina e le avevo già anche preparate col bioadesivo per velocizzare comunque il video e ho utilizzato questi due abbellimenti che ho trovato dai cinesi a brescia sono veramente molto carini sono degli abbellimenti in 3d quindi come vedete questo tipologia di card è molto semplice da fare la si può fare anche senza avere nessun tipo di strumento quindi tutto anche con taglierini e forbici e prendendo degli abbellimenti che si trovano anche in qualsiasi negozio comunque se non dai cinesi negozi di scrub booking dove volete allora prima cosa da fare andiamo a centrare all'ingranaggio quello che è la nostra parte divisa in quattro parti è importante centrarla bene perché comunque è essenziale per l'apertura e soprattutto perché dobbiamo incollare nel modo giusto quindi prendiamo la misura a metà quindi a metà dell'ingranaggio e metà del nostro foglio diviso in quattro parti avanzerà un piccolo spazio nella parte sotto la pieghetta in basso a sinistra andiamo a mettere della colla del bioadesivo quello che volete io uso della vinavil messa in questo piccola bottiglietta con la punta in ferro che è veramente comoda perché permette comunque di avere dei dosaggi non troppo alti quindi anche se si usano delle carte con una grammatura non troppo alta non le va a rovinare quindi andiamo ad incollare bene la prima parte verificando sempre di essere stati ben centrati dopodiché iniziamo con la seconda parte in questo caso si va a incollare il lato in alto a destra e questo è essenziale perché sennò il pop up non funzionerebbe quindi anche in questo caso andiamo di colla vinilica contate che è abbastanza normale se non avete pieghettato perfettamente come faccio io tutta la parte del meccanismo del pop up magari che ci sia bisogno magari col taglierino con la forbice di andare un po' a sistemarlo però non è niente di drammatico fatto questo aspettando un attimino che si asciughi in modo da non andare a spostare andiamo ad applicare le nostre carte decorative io ho utilizzato le carte della linea di bellebo perché comunque sono quelle che ho utilizzato nell'album che ho fatto quindi mi piaceva l'idea di andare comunque ad abbinare le nostre carte come vedete vado comunque a rimarcare quelle che sono le piegature perché è una cosa abbastanza importante quindi le rimarco sempre più volte per sicurezza una volta comunque applicate scelte le nostre carte decorative questo va a gusto personale quindi non c'è modo per applicarle si può volendo si potrebbe lasciare anche così diciamo che comunque decorata dal mio punto di vista diventa comunque molto più carino molto più completo e quindi io ho preferito usare le carte però ecco vi dico non serve usare linee particolari linee costose si possono utilizzare anche dei cartoncini in tinta unite giusto per dare il contrasto e per rendere il biglietto più carino io avevo in casa questo ho usato queste però anche con i cartoncini solo colorati è una cosa che comunque esce molto bene quindi non ci sono problemi adesso andiamo a decorare quello che è il nostro parte esterna del biglietto io ho scelto due carte una per il fronte e una per il retro quindi per il fronte io ho scelto proprio di utilizzare la carta principale della linea di bellevo con la bambina perché mi piaceva tantissimo questa bambina col tutu e il coniglietto quindi andiamo sempre a cercare di centrare la nostra carta non è che escono sempre proprio perfetti al millimetro oppure se volete proprio la perfezione millimetrica vi consiglio di tirare una riga in questo caso io ho deciso di fare la chiusura a questo biglietto con un nastrino quindi nella parte retro io perlomeno ho scelto di fare così sono andata ad applicare il nastrino con del semplice biadesivo quindi ho fissato il nastrino alla base col biadesivo in questo modo sono sicura che comunque non si va a muovere e non mi crea problemi perché comunque va aperto e chiuso diverse volte è vero che non si fa tanto sforzo però io preferisco comunque fissarlo bene quindi ho fissato la parte centrale col biadesivo più grande e ovviamente lo tolgo in questo modo anche il fiocco rimane comunque fissato anche alla carta decorativa quindi alla carta scrap che gli andiamo a mettere sopra stando attenta di non andare troppo vicino al bordo anche ho preferito fissare il nastrino perché secondo me se no si muoveva veramente troppo io ritengo sempre col biadesivo quindi c'è poco da fare e quindi una volta fatto questo io mi assicuro che il nostro nastrino non si muove più vado a togliere ovviamente anche la parte che non serve e quindi andiamo ad attaccare il nostro bigliettino anzi la nostra carta scrap il bigliettino in questo modo abbiamo ancora il fissaggio del nastro maggiore perché comunque anche la carta col biadesivo lo fissa bene quindi quel nastro non si muove più anche qua cerchiamo di andare un po' a centrare in modo che non appaia proprio storto il bigliettino e come vedete in questo caso abbiamo questa tipologia di effetto adesso vedrete che io ho dovuto aggiungere dei bordini e dopo vi spiegherò il perché come vedete io ricontrollo sempre bene di avere fissato il tutto bene vado a verificare le misure e in questo caso io ero fuori camera ma comunque mi sono resa conto che la parte esterna era più corta perché le misure che mi erano state date a me non erano quelle che vi ho detto quindi quella di 42 per 13 ma a me era stato dato un 39 quindi io mi sono trovata ad avere 3 cm in meno di carta scrap quindi semplicemente utilizzando la stessa tipologia di carta sono andata poi ad aggiungere dei bordini in questo caso adesso sto prendendo la misura centrale perché il nostro meccanismo deve essere applicato al centro quindi come vedete qui appaiono i bordini perché mi sono resa conto che le misure che mi avevano dato erano sbagliate quindi con i bordini si recupera sempre io ho messo i bordini, ho messo queste pizzettature che mi piacciono tanto in questo modo tutto il meccanismo rimane ben coperto quindi adesso dobbiamo semplicemente andarlo a incollare quindi prendete col righello, io mi l'ho già fatta al segno, la parte centrale e dovete mettere il meccanismo sotto la linea della pieghetta perché se no succede un casino perché vi si piega anche il meccanismo quindi fatto questo voi gli mettete la colla la colla va messa sopra e sotto ma prima partiamo dal sotto quindi controlliamo che il meccanismo si chiuda tranquillamente mettiamo la nostra colla io utilizzo sempre la Vinavil comunque tiene non dà problemi di nessun tipo e anche in questo caso oltre a farlo centrale sotto la pieghetta cercate di stare dritti in modo che comunque il meccanismo non vada ad uscire all'esterno della busta è vero che il meccanismo sono 12 cm quindi comunque avete mezzo centimetro di gioco per parte anche se la colla vinilica poi comunque diventa trasparente ho tolto un po' l'eccesso vado in questo caso semplicemente a metterla anche sopra lo chiudo in modo da accertarmi bene che comunque la colla aderisca e gli diamo un attimino di tempo insomma in modo che si incolli e dopodiché io ho iniziato con la decorazione quindi ho utilizzato questi abbellimenti e gli ho messi un po' a gusto personale dopo qua è vero io ad esempio la cameo li potevo fare con la cameo che è la big shot li può fare con la big shot io ho fatto comunque una cosa un attimino che potesse essere alla portata di tutto giusto per mostrarvi come si fa una card pop up mi sembrava più giusto utilizzare dei materiali facilmente reperibili questi si trovano un po' in tutti i negozi ormai i cinesi si stanno attrezzando con questi abbellimenti 3d e quindi io ho semplicemente decorato mettendo qua e là un po' di decorazioni e questo l'ho fatto sia all'interno che all'esterno io prettamente ho utilizzato appunto queste tipologie di abbellimenti perché comunque mi piaceva veramente molto allora io finirò il video lasciando la parte inferiore e superiore senza nulla perché purtroppo io quando ho girato il video quindi ho iniziato il biglietto perché lo dovevo per forza iniziare perché non è proprio così veloce per lo meno per chi come me e alle prime armi io alla fine ho fatto due pop up per gli album e questo era il primo biglietto che facevo e quindi avevo dovuto iniziare a farlo anche perché lavorando poi lo dovevo consegnare e dopo dovevo aspettare che mi arrivassero le foto quindi non staccate seguite il video fino alla fine perché alla fine vi ho messo le immagini delle fotografie di come comunque sono andata a concludere questo lavoro perché per l'appunto non avendo ancora le foto della bambina io ho fatto il biglietto il giorno prima che la bambina nascesse quindi ho dovuto aspettare ma non potevo rimontare assolutamente il tutto per fare il video anche perché comunque avevo la necessità poi di andarlo a terminare ho preferito farlo così fare la parte del più grosso del lavoro se mi arrivavano le foto di aggiungerle è per questo che la parte superiore e inferiore io non l'avevo decorata allora diciamo che la parte essenziale del pop up è quella centrale e di solito i pop up sono molto più piccoli quindi non si ha a disposizione così tanto spazio di solito si mette la carta scrap o comunque una decorazione secondo me poteva già stare bene anche così dato che dopo sono riuscita ad ottenere le foto io ho deciso di andarle ad applicare quindi nella parte superiore e inferiore le ho mattate con la carta della stessa linea quindi con la linea di Bellevue ed ho utilizzato ancora qualche abbellimento che comunque mi era avanzato contate che questo l'ho fatto al 4 del mattino quindi sono sempre un po' i miei orari e dopo ad esempio ho fatto delle rifiniture ho aggiunto comunque degli altri pezzettini di abbellimenti in questo caso mi vedete incollare perché loro hanno predisposto questo tipo di decorazione lasciando comunque quella parte troppo libera non mi piaceva assolutamente io sono andata a fissarla con la colla perché comunque si muoveva cioè non è che si muoveva avevano spessorato solo la parte più alta la parte sotto tendeva a piegarsi quindi ho preferito fissarla in modo che fosse una cosa più sicura perché sennò succedeva che il bigliettino si poteva rompere molto facilmente anche perché comunque io ho confezionato l'album mettendolo all'interno di una scatola insieme a della paglia e quindi ho infilato il bigliettino dopo aver chiuso la scatola ho utilizzato quelle carte trasparenti per i cesti per chiuderlo tipo a caramella e quindi gli ho infilato all'interno del biglietto perché fargli la busta diventava una cosa un po' allucinante perché dovevo usare un altro foglio di carta scrap enorme e me lo volevo anche risparmiare e poi comunque rimaneva carino così anche da vedersi all'interno della scatola era bello quindi io spero che il video vi sia piaciuto spero che vi sia utile come vedete ho utilizzato tutte cose alla portata di tutti è un lavoro abbastanza semplice e dà l'idea di essere difficile ma non è niente di che io vi saluto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del video io spero che possa piacere il biglietto io l'ho fatto con il cuore e quindi io vi saluto e ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti